Ciao ragazze, benvenuti al solito appuntamento mensile dei promossi e bocciati, questo mese è di giugno. Prima di iniziare volevo scusarmi perché questo mese non vedrete il video dei prodotti finiti, però è successo un problema, praticamente ho registrato il video con il microfono del computer, non si sentiva assolutamente niente, non vi dico la nervatura perché non ho controllato il video perché ero convinta che nelle impostazioni avevo messo il microfono della webcam, non è stato così, ho tentato di montare l'audio da sopra, ma si sentiva tipo un fischio, non si capiva niente, quindi ho dovuto questo mese purtroppo cancellarlo e quindi questo mese non vedrete il video dei prodotti finiti. avevo buttato il tutto perché pensavo di averlo registrato con il microfono della webcam e così non è stato, non vi dico i nervi, comunque inizio subito con i bocciati perché questo mese sono tutti promossi e abbiamo solo un bocciato, ed è l'acqua profumata, questa qui della colina che vi ho fatto vedere in qualche video scorso, che ho comprato da acqua e sapone quando stava in sconto fortunatamente, costava tipo 3 euro e 47, 3 euro e 5, non mi ricordo, comunque nei video precedenti sapete il prezzo preciso, adesso non lo so se è in sconto, vi dico la verità, comunque non vi perdete assolutamente niente, a parte la confezione che la potete riutilizzare tranquillamente, pure come spruzzino a mare, però non mi piace perché è scomoda, perché se la volete utilizzare come un profumo, vi macchia i vestiti e ve scomoda, quindi è da utilizzare dopo la doccia, cioè vi mettete nel bagno, vi spruzzate tutte dell'acqua e insomma così la risolvete. Però il prodotto ha un ottimo odore, ma sul corpo non mi piace perché vi lascia una sensazione appiccicosa sul corpo, l'acqua profumata dovrebbe dare una sensazione di fresco, di leggerezza, mentre questa qui si appiccica tutto addosso, non mi piace, l'odore è buonissimo e questo qui è il dolcezza di frutti e stipi, l'odore è molto buono, ma il prodotto, come si comporta insomma sul corpo non mi piace, quindi lo bozzo, vedrò come consumare 250 ml di prodotto mi pare, esattamente. Mentre come promosso, sempre per quanto riguarda l'acqua profumata, e l'ho presa sempre da questa buona, e questa qui dell'HQ, non so come si chiama questa marca, Eude Alp, penso sia comunque la marca, ed è all'amore muschio, ha una profumazione buonissima, lo uso tutti i giorni, come potete vedere, già è qui, e sicuramente l'andrò a ricomprare perché, come vi dicevo, lascia proprio sul corpo questa bella sensazione di fresco, ha una profumazione gradevole e duratura, bella estiva, mi piace, e sicuramente l'andrò a ricomprare. L'ho acquistata in saldo da acqua e sapone a 4 euro e qualcosa, il prezzo effettivo era di 6 euro, comunque li vale tutti, è davvero ottima, ed è 75 ml di prodotto, è un profumo ragazze, fantastico, fantastico, la utilizzo, la utilizzo sempre. Poi, per quanto riguarda sempre prodotti, insomma, per la cura del corpo, ho ricevuto da provare questo qui, l'olio della L'Ovea, lo sto testando ancora, però per adesso lo promuovo perché vi piace, soprattutto è l'olio d'Argan per il corpo, ed è specifico per la pelle secca, ho avuto quella possibilità di collaborare con questa azienda e mi hanno chiesto il mio tipo di pelle, il mio tipo di capelli e mi hanno mandato questo olio per il corpo, per la pelle secca ed è ottimo, il profumo è buono, ha tipo, non lo so, non è il classico olio d'Argan, all'interno c'è anche il cocco, quindi ha un odore molto particolare e mi piace perché tratta a lungo la pelle ed è assolutamente perfetta per la mia pelle, la vedo proprio nutrita, non mi si fanno quelle crepe o quell'alone bianco per la pelle secca, insomma, perché ha la pelle secca, mi capisce, è davvero ottimo, ed è un prodotto della L'Ovea che se non sbaglio in alcune UDS li potete trovare. Ho promosso quindi anche questo prodotto qui per adesso perché è sempre una prima impressione. Poi, per quanto riguarda i prodotti di make-up, promuovo questo prodotto di Paula P per le sopraccia perché ragazze, in estate è qualcosa di fantastico, non avevo capito, insomma, l'importanza di questo prodotto, cioè, lo valutavo buono, ma per l'estate davvero è una mano santa. Quando notate che vi si scioglie tutto in faccia, le mie sopraccia, vedete, a parte che come un sacco di ragazze, un sacco di persone mi hanno detto che mi sono tatuata le sopraccia, invece no. È il prodotto di Paula P che, come potete vedere, è indelebile. È qualcosa di fantastico e come si può notare dalla mia faccia sono sudata che è qualcosa di assurdo. Infatti ho anche i capelli raccolti perché si crepa. E questo prodotto è fantastico perché ancora non l'ha provato, ragazze. Io ve lo straconsiglio, infatti ne farò scorta al Cosmo, però farò l'anno prossimo. Ed è il Brown Design Fix di Paula P, è fantastico, davvero, fantastico. Ed ho risolto anche il problema delle mie sopraccia che, comunque, se utilizzo le polveri o la matita, mi si scioglie, mi si fa tutto questo, l'alone marrone qua, non mi piace. Questo qui è un prodotto fantastico per l'estate, ve lo straconsiglio. Io l'ho pagato 10 euro in fiera, sul sito non so, andate a dare un'occhiata, magari con i saldi, insomma, lo trovate in promozione, non lo so, io ve lo straconsiglio perché è fantastico. Se volete delle sopraccia perfette, ci ho fatto anche la doccia e non sono andate via. Infatti, sembrano proprio tatuate, io le adoro, davvero, lo adoro questo prodotto, fantastico. Va bene, passiamo avanti. Un altro prodotto che mi è piaciuto tanto è il rossetto di Revlon, che ho trovato nella Sugar Box di Zugno. Ed è bellissimo, davvero. Voglio assolutamente altre colorazioni di questo prodotto perché vi dura davvero, si può dire, 24 ore. E' fantastico. Questo qui è il Revlon Colorstay Ultimate Suadè, nella colorazione 010, che è un rosa baby, shocking, molto molto bello, duraturo. L'unica pecca, magari, è che vi secca un pochettino le labbra, ma con un po' di burro cacao andate a risolvere il problema. Tanto il colore è lì, ci ho mangiato, ho bevuto, davvero ottimo. Non mi aspettavo davvero una resa così. È un rossetto davvero fantastico. Nessuno, anche le tinte di Essence, ho anche varie tinte, ma questo qui è il più duraturo di tutti, è davvero ottimo. Infatti voglio vedere se riesco a trovare altre colorazioni perché è davvero valido, buono. Poi promuovo la terra della New York Color, questa qui è quella nuova, è della Big Bold. Ed è una terra matta e la sto utilizzando tantissimo anche oggi. Ci faccio il contouring ed è la mia salvezza perché non so se si nota dal video, ma sono bianco cadavere. E comunque per dare un po' di colore al viso, perché a mare ho fatto solo un giorno di mare, oggi volevo andare a mare, ma stamattina il sole non c'era, poi è apparso, tipo alle due, per rovinarmi, insomma, la mattinata. Comunque andiamo avanti. E non so, quest'estate sembra non voler venire mai. Questa qui è la Big Bold, la 602 Metropolitan. Ve la straconsiglio, ha una scadenza di 30 mesi ed ha tantissimo prodotto, 17.1 grammi di prodotto. E' nuova, sicuramente la trovate negli stand, se andate da questa pole, io l'ho presa lì, davvero valida. L'ho pagata intorno a 3 euro e qualcosa. Poi, un altro prodotto illuminante che mi sta piacendo è questo qui della Ruby Kisses, ed è una marca americana che ho comprato al Cosmoprof, ed è l'Over Glow Bronzing Powder. Io lo utilizzo anche come illuminante ed è bellissimo. Sembra, ho visto alcuni video delle americane che lo paragonano al Mineralize di MAC, fanno vedere, insomma, questo qui con il Mineralize di MAC, ed è la versione economica. questa qui, perché è una marca da drugstore in America, però è davvero molto bello, vedete, molto molto luminoso. E lo sto utilizzando tantissimo, sempre per, insomma, dare un po' di colore alla mia faccia cadaverica. L'ha sfumato, vedete, sono tutti per le scienze, molto molto bello, molto molto bello. Ed è questo qui. C'era un'offerta al Cosmoprof, tipo 3 prodotti, 5 euro, e ho preso, insomma, questo prodotto qui. Poi, gli ultimi 3 prodotti che vi faccio vedere, sempre promossi. Allora, promuovo l'olietto della Nux, che il mese scorso, se non sbaglio, ve l'ho messo Nenì, perché ho notato, non ho notato che sui capelli me li sporcava. Ho trovato il metodo. Io, cioè, li mettevo dalla radice, perché io tengo i capelli molto secchi, e quindi, con l'olio della Moroccan Oil, dalla radice, non mi causava il problema, insomma, che si sporcavano i capelli. Mentre questo qui è un pochettino un po' più grasso, non lo so, me li sporca. Lo metto da una mezza lunghezza, fino alle punte, ed è ottimo. Lo utilizzo anche per il corpo, perché ha un odore paradisiaco, è davvero qualcosa. Buonissimo, si sente addirittura da qui? È qualcosa di fantastico, paradisiaco. Infatti, quando l'ho trovato nella Sugarbox, in versione Gold, sono tipo impazzita, perché ha un odore fantastico. E quindi promuovo l'olietto della Nitz, sul corpo è qualcosa di favoloso, e anche sui capelli, perché ve li lascia belli morbidi. Ho dovuto cercare il metodo, insomma, per utilizzarlo al meglio. Ho trovato il metodo per utilizzarlo al meglio. Poi, altri due prodotti che promuovo, li sto utilizzando tantissimo, ed è questo blush della Glossip, che è fantastico per l'estate. Ha questo colore pazzesco, arancione. Ovviamente è sfumato, dà tipo l'effetto salute. Ce ne ho messo un bel po', comunque. Ha un bellissimo colore. Ed è lo 06 Doll. Lo sto utilizzando tanto. È bellissimo, davvero. E lo promuovo, perché sta bene con qualsiasi tipo di trucco. Infatti, la maggior parte dei... In questo mese, la maggior parte dei trucchi che ho fatto, ci ho messo questo blush qui, ed è ottimo. Resiste tanto. L'ho provato anche con il caldo, e devo dire che è duraturo. È davvero un prodotto molto molto valido. Ultimo prodotto, ma non per importanza, è questo ombretto fantastico della Beau Gris Revolution, che è una marca di ombretti minerali francesi. Quindi, questo qui è il classico color mattone. Questa è la scrivenza dell'ombretto. Come potete vedere, è paurosa, davvero. È una scrivenza pazzesca. E lo utilizzo sempre nello sfumone, per qualsiasi tipo di trucco. È un colore passepartout, che va bene per qualsiasi tipo di trucco, per rendere ancora più particolare la sfumatura. Lo cercavo da tanto. Infatti, quando ho avuto la possibilità di collaborare con questa azienda, ho visto che avevano questo color mattone aranciato, che ho visto in molti trucchi che fanno le americane, sia su Instagram che Pinterest. E ho detto, voglio anch'io questo color mattone, e voglio applicarlo un po' dappertutto, e così sto facendo. Ed è fantastico. Vi lascio nell'info box il sito della Bo Cosmetics, se volete dare un'occhiata. Ha davvero tantissimi prodotti. Mi hanno mandato anche un blush, però è molto, molto chiaro. Quindi, lo devo utilizzare sempre con una base un po' più scura sotto. Infatti, non ve l'ho ancora parlato, perché lo sto testando per vedere e valutare bene. E niente, ragazze, questo è quanto. Io vi mando un bacione. Ci vediamo prestissimo nel prossimo video. E come vi ho annunciato su Facebook, questo mese per voi ci saranno due giveaway per ringraziarvi del 2000 e più iscrizioni. Sono davvero felicissima. Non so davvero come ringraziarvi, per me è un grande traguardo. E niente, spero che parteciperete intanto al giveaway. Il primo giveaway, insomma, lo sapete, è quello lì di Paola P per le 2000 iscrizioni. Quindi, se vi fa piacere, a breve vi posterò il video dove potete lasciare i vostri commenti. L'altro, per chi mi segue su Facebook e Instagram, ho già se l'immagina. E alle ragazze, insomma, che mi seguono solo su YouTube lascio la sorpresa. Comunque è qualcosa molto molto carina, davvero. E spero che vi piacerà. E niente, vi lascio con questa tipo sorpresa. E niente, vi mando un forte bacione e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze! Ciao ragazze! Ciao ragazze!